I mobili bianchi plastificati del bagno e la plastica bianca di accessori da bagno, ingiallita e invecchiata, dà veramente una sensazione di sporco. Ma cambiare un mobile costa ed è anche una bella rottura di scatole far buchi nuovi sul muro per appenderlo. Finalmente puoi evitare tutto questo. Applicando RS bianco con una lana d'acciaio fina o con dello scotch bright da carrozzieri, ma solo per la plastica o le pellicole, non per le cromature, puoi pulire al meglio possibile e togliere la patina gialla e ruvida che si crea con l'invecchiamento e l'ossidazione. Ma soprattutto successivamente RS bianco protegge dall'invecchiamento e dall'ingiallimento. In alcuni casi, semplicemente grattando con qualcosa di abrasivo potresti ottenere un risultato simile, però poi il materiale sarebbe ancora più esposto all'assorbimento di sporco e alla veloce formazione di ossido giallo. Per fortuna adesso c'è Black Traction RS bianco, così puoi rinnovare e risparmiare perché una sola applicazione ha una lunghissima durata d'effetto di molti molti mesi e agevola la pulizia con detergenti meno aggressivi. È adatto anche a togliere ossido, ruggine e calcare anche da metalli e cromature e a contrastarne la formazione per molti mesi con una sola applicazione. Fate attenzione ai prodotti corrosivi perché inizialmente potrebbero anche avere un buon effetto e pulire abbastanza facilmente. La caratteristica però dei corrosivi è quella di continuare a lavorare e di danneggiare sempre più il materiale nel tempo, esponendolo ancora di più all'assorbimento di sporco e all'ingiallimento, ma con un danno irreversibile. RS bianco non contiene silicone, cera e corrosivi e quando l'effetto termina è rinnovabile. RS bianco è un prodotto esclusivo e brevettato Black Traction, dalle caratteristiche uniche, per risultato e soprattutto per l'effetto protettivo dopo l'applicazione, da cui consegue la più lunga durata d'effetto mai ottenuta prima. Il prodotto non ha effetto su parti rovinate dall'esposizione prolungata a elevati fonti di calore o rovinate da prodotti corrosivi. Grazie per la visione!